sei uno spettacolo grazie quindi l'incrocio tra fascino e mistero vuole qualche dritta da un esperto si esatto beh dovrai darmi prima qualcosa tu qualcosa cosa fammi vedere come fuori dall'albergo non sei mai uscita senza guinzaglio eh non mi prendere in giro allora che cosa fai quando nessuno ti tiene legato andia altri pronti al cielo uno due tre ragazzi è una cosa pazzesca ma ho detto che è una cosa pazzesca altro due altro un altro uno due il cappello ecco che va ma tu cieni sempre così e questo è solo la cena sarà qualcosa di veramente speciale è stupendo te lo dico col cuore ecco qua la cena è servita oh sì avanzi i miei preferiti avanzi no sono i migliori hot dog alla new yorkese che si possano trovare in questa città davvero beh non vedo l'ora di assaggiarli hoops 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 hoops